Apriamo questa edizione collegandoci con i cancelli della Sevel di Piazzano di Atessa, dove siamo a ridosso del cambio turno tra gli operai, alcuni dei quali hanno raccolto l'invito di FIOM, CGL e OSB a scioperare. Ecco, vediamo proprio gli operai che stanno uscendo, c'è anche la nostra Antonella Micolitti sul posto, alla quale do subito la linea. A te Antonella. Ben trovati, sì, diciamo che stanno uscendo i lavoratori del turno mattutino e mentre è stato indetto dalla FIOM CGL uno sciopero di otto ore per il turno pomeridiano qui vicino a me, o Alfredo Fegatelli, che è appunto il segretario regionale Abruzzo e Molise della FIOM CGL, hai detto bene tu, dopo le preoccupazioni per un eventuale stabilimento in Polonia, eventuale concorrenza al Ducato, ora ci si mette anche la Renault, perché c'è questa proposta, che ancora proposta è, lo sottolineerà, anche Fegatelli di fusione tra FCA e Renault, con un camion, camioncino, con un mezzo che potrebbe fare da concorrenza al Ducato. Questa è solo una delle motivazioni di questo sciopero, ma andiamo a parlare con Fegatelli. Esattamente, lo sciopero sembra riuscito, perché come avete potuto vedere dagli autobus sono scese 4-5 persone, ad eccezione degli interinali che sono entrati, non abbiamo visto neanche una grossa affluenza delle macchine. Quindi pensiamo che la risposta da parte dei lavoratori c'è stata, è una risposta che misura esattamente anche la preoccupazione sul futuro dello stabilimento. Voi dite che questa proposta di fusione tra FCA e Renault avvalora anche la possibilità di uno stabilimento in Polonia? Sicuramente PSA ha fatto una scelta di andare in Polonia per produrre 100.000 furgoni in più. Tra questi 100.000 furgoni c'è anche qualcosa del Ducato che viene prodotto. Sicuramente la scelta di avviare una fusione tra Renault ed FCA potrebbe aver indotto anche PSA a prendere delle iniziative come quella che sta prendendo in Polonia. Fegatelli, voi siete amareggiati perché avete detto dal governo che nessuna risposta, le abbiamo chiamate più volte. Ricordiamo che qui alla Sevele lavorano 6.400 dipendenti con un PIL del 10% per l'intera regione Abruzzo. Amareggiati forse di più? Più che amareggiati siamo abbastanza arrabbiati perché ovviamente stiamo vedendo sfumare un'altra azienda italiana che già ha portato la sua testa in America con la fusione con Chrysler, adesso sta facendo un'altra dove praticamente sta prendendo le redini perché prenderà le redini un'azienda transalpina e quindi di conseguenza siamo preoccupati perché non conosciamo quali sono le reali strategie. calcolate che il piano industriale ci è stato presentato a dicembre e oggi non è stato assolutamente realizzato. Tutto questo nell'assenza totale da parte del governo. Per concludere poi riproporremo a lei una lunga intervista questa sera nel nostro consueto speciale. Voi siete amareggiati per quanto riguarda il governo ma anche da parte dei dirigenti della Sevele non c'è stato nessun incontro? Per quanto riguarda la fiume noi abbiamo fatto richieste di incontro, non ci sono state date, al momento non ci sono neanche a livello nazionale ovviamente noi stiamo chiedendo che ci siano questi incontri per capire esattamente cosa sta accadendo lo chiediamo anche alle altre organizzazioni firmatari del CCSL che in questa fase forse sarebbe opportuno che siamo tutti uniti per poter dare prospettiva e futuro ai lavoratori. Diciamo Carmine, lo sappiamo che questo è uno dei distretti più industrializzati d'Abruzzo per quanto riguarda l'automotive e il Ducato è una sorta di simbolo per questa azienda che ormai sono quasi 40 anni che insiste sul territorio. Esattamente, è un'azienda che sono circa 37-38 anni che vive in questo territorio è un'azienda che ha prodotto, ha fatto dei record grazie al sacrificio dei lavoratori oggi ovviamente questi lavoratori si aspettano di capire se avranno futuro a partire dal 2022 in poi che è il momento in cui raggiungerà la massima saturazione questo stabilimento. Non so Carmine se hai domande da studio? Guarda, una domanda l'avrei. Se loro non hanno un po' l'impressione che si stia un po' spremendo questo stabilimento nella fase conclusiva di una sua parabola, ecco, questa è la preoccupazione maggiore anche rispetto al fatto che non si hanno notizie sullo sviluppo di nuovi modelli. Ecco, diceva il direttore, c'è un po' quasi l'impressione o almeno il sentore che si sta spremendo questo stabilimento e siamo, non vogliamo ovviamente fare da Cassandra, alla fine non essendoci prospettive come dite voi e non essendo ben chiaro il piano industriale. Esattamente, cioè se voi calcolate che per fare un nuovo furgone ci vogliono mesi, anni, dovrebbe essere modificata la linea interna e quindi significa che praticamente dovrà essere fatto un investimento importante, si parla dei 2 ai 3 miliardi di euro per un nuovo investimento. Fino a che non verrà fatta questa proposta e non sarà concretizzata, al momento noi stiamo assistendo solamente a una richiesta per produrre e esasperare di più questa attuale produzione di un furgone che è arrivato a maturazione, questa è la preoccupazione più grossa. Quindi non nell'immediato ma nel futuro vediamo forti preoccupazioni. E speriamo di no perché questa azienda è un vanto per tutta la regione, Abruzzo e anche per tutta Italia con il suo ducato che è un simbolo della Sevele e appunto della FCA. Speriamo bene nel futuro, ringraziamo per il momento Alfredo Fegatelli, segretario regionale della FIOM CGL Abruzzo e Molise. Grazie. Grazie a voi. Fegatelli ha detto che dagli autobus sono scesi pochissimi lavoratori, quindi l'adesione allo shopperi indetto dalla FIOM è stata alta, ma di questo e di altro ancora naturalmente parleremo questa sera nel corso del nostro speciale. Per ora, dalla Sevele di Atessa è tutto. Ti restituisco la linea. Grazie Antonella. È bene vigilare, come dicevamo, ovviamente essendo fiduciosi che gli scenari peggiori vengano in qualche modo scongiurati proprio da ciò che farà sapere nelle prossime settimane il gruppo FCA. Ma occorre, ripetiamo, vigilare. Grazie. Grazie. Grazie.